Attenzione! Treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Si rammetta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Si rammetta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Attenzione! Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 4. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.